salve a tutti amici iscritti e oggi inizia con le collezioni di pp new si lo so che faccio contenuti simili a super jamaster ma ognuno youtuber fanno a fare i suoi a fare recensioni di cartoni recensire collezioni del mondo delle patatine kinder e andare in onda berry bees go ma presto forse alla fine di ottobre facciamo un video dedicato alle berry bees o alle magica dormi sul canale e poi spongebob e poi paolo paoli new diventerà un canale per maschietti ma ci sono sempre le collezioni pp new tesiglone shove e forse non so se serie faccio ma faccio anche coffee dance oggi andiamo a scoprire la collezione completa delle patatine di miraculous della san carlo junior che la quarta serie mi sembra 2022 e ambosseremo la macchina fotocamera di spongebob preso da md che costava un euro nelle md di fiducia ok va bene prima san carlo junior ve lo ricordate l'unbossing delle patatine di miraculous quarta serie o terza non ve lo ricordo che serie è in ogni confessione c'è gli orecchini di ladybug e tra cui potete incontrare ladybug chat noir alle olandia e gli orecchini sono cinque paia di orecchini te lo faccio vedere la serie completa ok allora abbiamo marinette rosa con tiki e poi c'è marinetta azzurra con tiki di nuovo poi abbiamo ladybug con la posa super sexy poi abbiamo ladybug con la posa sexy infine abbiamo gli orecchini di chat noir e così abbiamo completato la serie forse la mia prima serie che ho collisionato tutto delle patatine di ladybug e chat noir miracolus ladybug e domani porterò un video dell'epimil super epimil se capito ladybug se capito chat noir non importa niente voglio un astuccio nuovo quello di epoleonium te lo ricordate il video dell'anno scorso? è stato consumato domani porterò il video della seconda settimana dell'epimil di ladybug e chissà che cosa abbiamo per la seconda settimana non so se collisionerò a tutti va bene ragazzi apriamo la macchina fotocamera di spongebob macchina fotografica che è prodotto dalla giacquinto e qua dentro c'è anche l'album da colorare di spongebob si possono trovare negli md che costa un euro e basta c'è anche la fotocamera di dora l'esporolatrice ma non l'ho potuta prendere va bene prima vediamo la fotocamera questa è la fotocamera dove era figurato spongebob e qua è la casa di Anna di spongebob questa è la casa di squidi e questo è giallo e qua si possono vedere le immagini di spongebob si possono vedere le immagini di spongebob e qua abbiamo l'album color di spongebob abbiamo in queste immagini abbiamo spongebob e patrick che bevono gli esquisiti zucchi di frutta qua abbiamo spongebob con la coba in no contento poi abbiamo spongebob che fotografa Gary poi abbiamo patrick e spongebob contenti poi abbiamo spongebob felice spongebob pirata spongebob che dice al microfono wow 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 spongebob che fa la pernacchia spongebob che fa le bolle di saponi assieme a patrick che fa wow wow spongebob con la motocicletta spongebob e patrick migliori amici che fanno il culetto spongebob che suona la pianola spongebob che suona la chitarra plankton spongebob che fa l'amore e l'amoroso che bella la faccia di spongebob non lo voglio strappare patrick spongebob che fa che telefona spongebob alla spa facciamo finita spongebob che fa i castelli di sabbia e spongebob e patrick che si riposano spongebob beh è sexy spongebob perchè va alla spa e qua abbiamo patrick con l'ancora ma non appare mister crab sandy squid va bene ragazzi questo è l'unbossing della fotocamera di spongebob della jaft toys e la collisione completa delle patatine di ladybug ci vediamo domani con le pinils e con la settimana di con il super pinil che te lo faccio mostrare di ladybug prendo di ladybug perchè delle hot wheels delle pinil non mi interessano ok va bene iscrivetevi al canale e anche quello di paro poliovestra mettete mi piace e non mi piace condividete e commentate e noi ci vediamo al prossimo video delle coesioni ppnew ma c'è anche altro tesiclone show coffee dance youtube pop tantissime contenuti arrivano sul canale ciao a tutti ciao a tutti